Oh, un bel ritorno, sarà forse la magia del Natale Chi ci segue da tempo dovrebbe sapere il mio amore per Opel Combo Live La versione si fa ancora più grande Infatti si tratta della versione passo lungo con sette posti Davvero, davvero un sacco di spazio Chiaramente c'è il portellone laterale Davanti sono chiaramente presenti sedile passeggero e guidatore È possibile accedere anche da questa parte ai sedili dei passeggeri Saremo a bordo però e andiamo a vedere insieme l'infotainment cosa offre Comunque è possibile connettere il proprio dispositivo tramite bluetooth Per poter effettuare le chiamate in tutta tranquillità Ci sono anche i comandi al volante Sono presenti anche due braccioli sia per il sedile passeggero che per il sedile guidatore E ha chiaramente i sensori di parcheggio che rendono le manovre ancora più semplici Opel Combo Live, sette posti con allestimento Advance 1.12 cilindrata, 110 cavalli, benzina Ci sono le barre longitudinali al tetto Rottino di scorta da 16 pollici Davvero questa Opel Combo Live potrebbe rivoluzionare la vostra vita Sia perché c'è un sacco di spazio, è perfetta per i viaggi Se volete adibirla a mezzo per il lavoro potete farlo abbattendo i sedili posteriori Non so, magari siete degli animatori, avete bisogno di spazio per poter portare l'attrezzatura Ma avete bisogno anche di posti per poter portare la vostra organizzazione E Opel Combo Live è sicuramente quello che fa per voi Scopritela subito su rattiauto.com, link in descrizione Grazie per aver guardato il video e alla prossima Ciao Ratti Lovers Ciao Ratti Lovers Ciao Ratti Lovers